Signori, sono in un bel ristorante in provincia di Como, esattamente all'unità di Cacirio, un ristorante regina margherita, in una sala molto molto bella. Voglio attirare la vostra attenzione per il pizzico di magia. Nel mio tavolo ho fatto apparire la bellissima Cati e il simpaticissimo David. Signori, è un incredibile gioco di prestigio con delle monete, monete molto curiose, australiane, esagonali. Il titolo di questo gioco è La Croce Magica del Mago Avery. Osservate attentamente, sei monete, tre a destra e tre a sinistra. Non incrociate mai i vostri occhi, sono io ad incrociare le mani. Osservate con la massima attenzione, una, due, tre monete in questa mano, una, due, tre monete in quest'altra. Basta incrociare le mani, chiudere i pugni, apra la cadabra, paf, e una moneta è passata. Una, due, tre, tre e quattro. Di nuovo, two coins, four coins. Lo detto in inglese perché in Australia parla l'inglese. Basta incrociare le mani, apra la cadabra, paf, e anche la seconda moneta è passata. Una, due, tre, quattro, e cinque. L'ultima volta, signori, una moneta nella mia mano destra, cinque monete nella mano sinistra. La Croce Magica del Mago Avery si chiude i pugni, apra la cadabra, e si è visto e sentito chiaramente. Anche l'ultima moneta passa. Una, due, tre, quattro, cinque, e la tronete, sei magiche monete. Grazie.